Siracusa anti-covid, ristorazione prorogata, ordinanza su consegna e asporto nella ZTL. Riguardante la pandemia in atto, le misure anti-covid limitative, è stata prorogata fino al 3 dicembre l'ordinanza che sospende gli effetti della ZTL per le attività di ristorazione che svolgono asporto e consegna a domicilio. Il nuovo provvedimento del settore mobilità e trasporto è già in vigore da ieri. La precedente ordinanza era stata una decisione dell'amministrazione presa su input del sindaco Francesco Italia. Anche la nuova agisce in deroga a quella del 2016 che affissano gli orari di accesso dei mezzi all'isolotto nei fini di settimana e nei festivi. Compatibilmente con le altre misure anti-covid sulla limitazione degli spostamenti, le aziende di ristorazione che hanno sede fuori dalla ZTL e che devono accedervi per effettuare consegne e i clienti che intendono rifornirsi con modalità di asporto nelle attività di Ortigia potranno farlo anche negli orari in cui è in vigore il divieto di transito. Chi lo farà avrà 48 ore di tempo per informare la Polizia Municipale utilizzando la casella di posta elettronica dedicata a sporto covid-chioccialacomune.siracusa.it Coloro i quali consegnano dovranno indicare il nome dell'attività, l'orario di transito, il numero di targa del mezzo utilizzato. Chi acquista in Ortigia, oltre a riferire l'orario di accesso alla targa del mezzo, dovrà allegare la copia dello scontino o della ricevuta fiscale messa dall'esercizio in cui è stato acquistato il cibo. Sin dall'inizio della pandemia, dice il Sindaco Italia, agiamo affinché nessuno debba sentirsi abbandonato e continuiamo a fare di tutto affinché ciò avvenga.